Professor Stefano Lello, benvenuto caro prof, perché ci sono, io ricordo che è ginecologo del Dipartimento della Salute Donne e Bambino del Polchini o Gemelli di Roma, perché oggi dobbiamo parlare di un argomento che sta tanto a cuore alle nostre amiche e ci stanno scrivendo da tanto tempo da casa per chiederci dei consigli sulla menopausa. Ci sono delle novità in arrivo, adesso ce ne parlerà, e allora quali sono nella gestione proprio della menopausa, professore? Dunque, innanzitutto grazie per l'invito e quello a cui lei faceva riferimento è particolarmente giusto e importante in questo momento, perché si tratta di farmaci per la gestione delle vampate, delle vampate e delle sudorazioni, che colgo l'occasione per ricordare ancora una volta, non sono sintomi innocenti, perché le persone che hanno più vampate e sudorazione hanno poi nel tempo maggiore probabilità di sviluppare una serie di patologie come l'osteoporosi, le malattie cardiovascolari, i disturbi cognitivi, quindi la vampata non è solo un sintomo, ma è un indicatore, come diciamo noi, di vulnerabilità biologica. L'altra cosa è che la vampata spesso disturba il sonno, dormire poco altera anche il tono dell'umore e la performance che ognuno di noi ha nella giornata seguente alla notte in cui non ha dormito. E certo. E quindi esiste questa nuova classe di farmaci che vanno a bloccare l'azione di una sostanza che si chiama neurochinina, perché bloccano il legame tra la neurochinina e il proprio recettore, che è il meccanismo che in assenza di estrogeni, quindi in menopausa, scatena la vampata. Abbiamo in questo momento due molecole che sono studiate con i nomi un po' strani, il Fezzoline Tant e l'Elanzine Tant, che hanno dimostrato di ridurre efficacemente le vampate in maniera molto rapida, addirittura a volte dalla prima o la seconda settimana di somministrazione. È un trattamento non ormonale, quindi è un'alternativa alla terapia ormonale sostitutiva classica che per noi resta il trattamento di riferimento e quindi apre prospettive per poter trattare fette ancora più importanti della nostra popolazione di signore in menopausa che soffrono di questo disturbo con un miglioramento netto della qualità della vita. Per quanti anni possono durare le vampate, i sintomi delle vampate? Perché ci hanno scritto persone anche di una certa età, diciamo così, a partire dai 70 anni, che continuano ad avere questo sintomo che, come diceva lei giustamente, professore, è un sintomo di... come dire, la qualità della vita viene meno, ecco, diciamo così, anche a livello cognitivo. Per quanti anni possono durare? La durata media è di 7,4 anni, che è un periodo molto lungo, con un picco nei primi 3-6 anni dall'inizio della menopausa, quindi dall'ultima mestruazione. Ricordo però un vecchio studio di Cronenberg, antico, che addirittura riportava in alcune pazienti, ma per fortuna una piccolissima percentuale, 41 anni dopo l'inizio della menopausa. avevano ancora, sì, sono dei casi ovviamente, però non sono così infrequenti per chi si occupa di menopausa trovare persone che anche molti anni dopo hanno ancora disturbi, soprattutto alla notte. Professore, dobbiamo rispondere anche a tante domande, soprattutto sulla vitamina D. Ci sono tante nostre telespettatrici che vogliono capire esattamente quando, come, perché, a che ora deve essere assunta in quale dose deve essere assunta questa vitamina, che è fondamentale per tutte noi donne, ma non solo. Di questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi. Eccoci, siamo tornati in diretta, siamo in compagnia del professor Stefano Lello, stiamo parlando di menopausa, questo periodo un po' delicato per noi donne. ebbene, abbiamo capito che stanno arrivando per fortuna dei farmaci per contrastare un sintomo molto antipatico come le vampate, ma non solo, perché c'è Rosaria. Adesso dobbiamo rispondere a un po' di domande che ci hanno fatto le nostre amiche a casa. Ebbene, Rosaria dalla provincia di Palermo ci chiede, sono da poco in menopausa, devo prendere la vitamina D? E che significa? La dobbiamo prendere? Allora, innanzitutto si può fare un dosaggio nel sangue per vedere a che livello ci si trova. Sulla base dei risultati si può decidere di assumerla, le quantità, le modalità. Quindi quello che si può consigliare è di fare un dosaggio per vedere a che livello si sta. Da lì si parte per la terapia. Normalmente per i soggetti sani si può stare sopra i 20 nanogrammi per millilitro, se però ho un'osteopenia o un'osteoporosi devo stare sopra 30 nanogrammi per millilitro, perché ricordiamo che la vitamina D è un complemento necessario per tutte le terapie di protezione dell'osso nei riguardi della perdita di massa ossea che si configura già dalla pre-menopausa e poi tende via via a crescere in menopausa. Ecco, appunto, l'integrazione di vitamina D è fondamentale un po' per tutte noi donne. Allora, dobbiamo capire perché anche le formulazioni, quando andiamo ovviamente in farmacia dovrebbe essere un po' il medico di famiglia a consigliarci o a maggior ragione il ginecologo, magari l'endocrinologo a consigliarci qual è il tipo di vitamina più adatta a noi. Allora, come deve essere assunta? Tutti i giorni? Perché ci sono formulazioni anche settimanali, ogni 15 giorni. Qual è e se c'è la formulazione più giusta, professore? Allora, la vitamina D, come la si assume, la si assume, va sempre a proteggere l'osso e il muscolo. Se vogliamo avere anche degli effetti cosiddetti extrascheletrici, cioè poter sviluppare una protezione dal punto di vista dell'attività antiossidante, per esempio, antinfiammatoria, conviene prenderne dosi più piccole tutti i giorni, cioè mille o duemila unità al giorno, sempre in base a quel dosaggio di base che dicevo prima io, e va presa preferibilmente a stomaco pieno perché si assorbe meglio. Noi diciamo di prenderla normalmente o dopo colazione o dopo pranzo e quindi così massimizzare l'assorbimento a livello intestinale. La vitamina D è piena di effetti positivi, può essere neuroprotettiva, oltre ad avere la protezione sul sistema muscolo-scheletrico, molte persone addirittura arrivano a sviluppare una debolezza muscolare per la carenza di vitamina D, basta ridare la vitamina D e poco dopo questo viene ad essere, diciamo, rimesso in equilibrio. La cosa importante è che quando inizio a prendere vitamina D, tre mesi dopo l'inizio della vitamina D, dovrei fare un dosaggio per vedere a che punto sono, per vedere se quel dosaggio che sto assumendo è adeguato. E' vero, sono tanti gli italiani, nonostante noi viviamo in un paese splendido, cioè baciato anche dal sole, diciamolo, però noi tendiamo a non sintetizzare bene la vitamina D, per cui il supplemento è fondamentale, soprattutto per noi donne, ma anche gli uomini non sono immune. Vogliamo ricordare che anche gli uomini è bene che anche il dosaggio della vitamina D lo facciano anche gli uomini. A proposito, adesso vi ho parlato di vitamina D, ma c'è Veronica che ci scrive dalla provincia di Venezia che ci fa un'altra domanda, professore. Per rafforzare le ossa, devo prendere anche il calcio oltre alla vitamina D? Questa è una domanda interessantissima. Rispondono anche le linee guida internazionali che consigliano il medico di fare un'anamnesi alimentare, seppur sommaria, anche se sommaria, quindi avere almeno un'idea, per capire se è il caso di somministrare calcio. Poi ovviamente posso fare un dosaggio nel sangue sia della calcemia che del calcio ionizzato, che è una frazione del calcio più importante per l'osso, e decidere a quel punto se dare una supplementazione. Altrimenti la cosa da consigliare è di assumere con la dieta. Cioè bere un'acqua ricca di calcio, prendere appunto, come dice la vostra grafica, i cavoletti di Bruxelles, per esempio, e poi i derivati del latte, il grano e il parmigiano, che sono privi di lattosio, per cui anche i soggetti, io sono un intollerante al lattosio, posso prendere questo tipo di cibi assolutamente in maniera tranquilla. Esistono diversi tipi di calcio, però. Esiste il calcio carbonato, per esempio, il calcio citrato. Il calcio citrato è interessante perché lo possono prendere sia a stomaco pieno sia a stomaco vuoto e non ha una tendenza significativa a formare calcoli renali, che potrebbe essere uno dei problemi correlati con un eccesso di terapia di calcio. Per cui dipende anche qui, insomma, dalle analisi, da che cosa emerge dalle analisi. La parola d'ordine è personalizzazione. La personalizzazione della terapia. Ancora una volta, sì. Ebbene, insomma, come dire, il rapporto medico-paziente è fondamentale per qualsiasi terapia, però abbiamo capito che sia la vitamina D, sia il calcio, giocano un ruolo fondamentale proprio per la protezione, non solo anche delle nostre ossa, ma anche del nostro sistema immunitario in genere. Allora, però dobbiamo parlare anche di diagnosi, perché c'è un esame che noi donne dovremmo fare a partire da una certa età, che è la MOC. Questo esame, come dire, che cosa ci racconta il professore? E da che età noi donne lo dovremmo fare? Allora, qui come al solito, le linee guida dicono di farlo dai 65 anni in poi. Devo confessare che i ginecologi tendono a chiederlo all'inizio della menopausa per avere un valore di base su cui poi fare il monitoraggio nel tempo. La MOC ci dice due cose. Uno, la quantità di osso che è nello scheletro, viene fatta a livello lombare, a livello femorale, e adesso poi ci sono i nuovi programmi che fanno lo studio della struttura interna delle vertebre di queste piccole cellette che si chiamano trabecole, che sono dei dati correlati con la resistenza dell'osso. Quindi le nuove MOC ci danno un sacco di informazioni sul rischio di frattura, non solo sullo stato dello scheletro. E non è un esame invasivo? Vogliamo raccontare un po', perché magari tante donne non fanno, perché hanno paura ovviamente delle radiazioni. Quanto dura la MOC, un esame come la MOC? Ma durerà 5 minuti. diciamo l'esame in sé. Poi c'è la preparazione, la signora si prepara, poi si riveste. Però di per sé non è? Però di fatto, no, basta togliere le parti metalliche, la signora può rimanere vestita tranquillamente, si stende sul lettino, c'è un braccio meccanico che passa sopra, prima sulla colonna, poi sul femore. La dispersione radiologica, l'esposizione radiologica è veramente bassissima, tant'è vero che non c'è bisogno neanche della schermatura nella stanza. e quindi è un esame molto tranquillo, molto sicuro. Per cui a partire dai 65 anni, insomma, le donne dovrebbero... Dai 65 anni. Noi la chiediamo dall'inizio della menopausa, perché ovviamente è lì che inizia la vera perdita. Così possiamo, come dire, fare qualcosa perché le terapie... Prevenire veramente la perdita dell'osso, sì. Grazie, grazie a voi. Grazie per essere stato con noi.